C'era una volta tante sneaker fa un ragazzo dotato di creatività. Tu credi che le sneaker siano una finestra sull'anima? Se metti tutto te stesso in un design, avrà successo. E quando indosso quelle sneaker, quella storia è anche la mia. Ma possibilità e opportunità possono sembrare irraggiungibili quanto un castello fra le nuvole. Darius King! La principessa delle sneaker! Disegnare per il marchio King è il mio sogno. Dobbiamo essere migliori allo sneaker con dobbiamo spaccare. Ci servono nuove idee. Qualcuno di originale. Se riesci a trovare un designer con una storia da raccontare, lo proveremo. Allora dobbiamo trovarlo. Hai un gran talento. Faccio solo scarabocchi. Tutto qui. Sembra di sentire parlare il tuo patrigno? Questo è il mondo reale, eh? Non gli scarabocchi. Sì, andiamo. Le semenze che continui a sognare. Sistema anche quelle. Si teneva stretto il suo sogno. Ma avrebbe avuto una chance in questo regno? In scala di beneficenza di King. Crea delle sneaker pazzesche. Non c'è abbastanza tempo. Alzati. Hai delle sneaker da creare. Ti sei impegnato tanto, El. Sei pronto per la grande serata? Aspetta un attimo. Le hai disegnate tu. Sei lui. Quello di cui tutti stanno parlando stasera. Io devo portare il tuo lui fuori di qui. Aspetta. Ho il copricioco. Mi farà dei suoi sogni. Sarebbe una magia unica nel suo genere.